Oggi ricordiamo la giornata universale del bambino e dei diritti dell'infanzia, una ricorrenza che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1989 per ricordare la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia che è stata siglata in quel periodo da tutti i paesi e man mano il numero si è allargato. Non sono inclusi però gli Stati Uniti. L'Italia ha sottoscritto questa convenzione soltanto nel 1991. Ma al di là di tutto credo che sia importante ricordare come anche oggi purtroppo ci siano tanti bambini, adolescenti che nel mondo vedono negati i loro diritti, il diritto alla gioia, al gioco, alla pace, perché sono vittime di violenza, di soprusi, vittime delle guerre. E questo accade nel mondo ma accade anche nel nostro paese. E per questo ci sono alcune associazioni anche molto note che si dedicano proprio alla cura e alla tutela dei più piccoli, dell'infanzia, dei giovani, dei ragazzi. Ricordo soltanto il telefono azzurro oppure Save the Children. Però pensando più in positivo vorrei citarvi alcune espressioni che ha scritto un nostro autore per Famiglia Cristiana, Alberto Pellae, il quale dice che bisogna ricordare che bisogna garantire il diritto ai bambini di crescere in una famiglia, di avere una scuola che sia maestra di vita, il diritto di avere salute, il diritto di avere un futuro. E a questo proposito, cioè del diritto di avere un futuro, Pellae scrive questo diritto è oggi molto urgente e va inteso come uno spazio di progetto in cui dare senso alla loro fatica di crescere, alla loro motivazione a impegnarsi, a studiare, a fare fatica. Grazie.